Eccoci che allora diamo il benvenuto nei nostri studi di Padre Pio TV al professor Gianluca Ruggero Prego professore, entra pure Grazie per essere qui con noi professore di diritto penale presso l'Università del Piemonte Orientale grazie per aver accettato il nostro invito Grazie a voi per l'invito Allora professore, l'è stato ospite qualche giorno fa di un convegno che si è tenuto qui a San Giovanni Rotondo la regia può mandare anche le immagini era il sessantesimo della pace Minterris il poliedro della pace ed ha partecipato a questo convegno con una sua relazione pena e riparazione verso una giustizia penale conciliativa conciliativa o riconciliativa magari lo vedremo durante questa puntata Il Coraggio di ogni giorno racconta un po' le storie di chi quotidianamente si impegna nella sua attività quotidiana per migliorare tutto ciò che va bene e che potrebbe andare meglio e ciò che non va e questo è un ruolo anche dei ricercatori universitari di chi arriva dal mondo universitario come lì per questo l'abbiamo voluta qui ospite con noi questa sera Allora partiamo proprio dal tema di giustizia riparativa arriveremo a parlare di che cos'è oggi la giustizia riparativa in Italia ma come nasce questo concetto? Questo concetto nasce in un ambiente completamente diverso dal nostro perché viene dai paesi di Comolò è stato un esperimento si dice, si narra condotto in Ontario nella cittadina l'esperimento cosiddetto di Kitchen all'inizio degli anni 70 è un ambiente culturale diverso dal nostro perché attiene a un sistema di Comolò quindi dove vi è più la possibilità di poter giustrare sia a livello di sentencing che a livello poi anche di probation quindi la possibilità da parte dell'organo giudicante dell'organo inquirente in alcuni casi di poter proporre un avvicinamento tra il reo e la persona offesa dal reato certamente questo tipo di prassi da noi continentali quindi non riguarda solo Italia ma riguarda tutti i sistemi di civil law tutta l'Europa continentale ha sempre incontrato tantissimi ostacoli soprattutto per quanto riguarda la difficile conciliabilità di un sistema radicalmente diverso dal nostro con la legge scritta la legge scritta dei paesi appunto che hanno dei codici penali ormai che si tramandano da secoli quindi una storia molto antica come il codice penale italiano francese belga tedesco eccetera con la possibilità del giudice di avere un così ampio margine di discrezionalità quindi noi siamo figli dell'illuminismo e quindi sotto questo aspetto la legge si presenta come irrefragabile rispetto al potere discrezionale del giudice ecco proviamo a fare proprio in realtà un esempio concreto di come questo concetto nasce lo diceva negli Stati Uniti di fatto in America prendiamo un reato semplice magari per esempio una rapina ecco quindi se c'è una rapina la persona viene rapinata banalmente ecco di cosa si parla si parla sostanzialmente di far dialogare in qualche modo l'autore del furto della rapina con la vittima con il rapinato per sostanzialmente chiedere il perdono sì perdono che nel sistema angloamericano è legato anche all'esecuzione della pena in genere questo tipo di giustizia conciliativa riguardava reati cosiddetti culturalmente orientati cioè quelli commessi ad esempio dai nativi americani o da soggetti immigrati che non avevano ancora inculcati i valori di quella società nella quale si trovavano o si ritrovavano sostanzialmente quindi un modo non repressivo per poter educare il soggetto ai nuovi valori della vita sociale nella quale adesso si trova ad operare più che reati contro il patrimonio reati violenti come il patrimonio si trattava ad esempio di reati contro la persona quindi molestie piuttosto che atti violenti che in certi ambienti culturali in certo qual modo tollerati o comunque passavano in noncale perché espressioni a determinata cultura mentre trapiantati in una cultura diversa in una cultura nuova vengono fortemente repressi dai legislatori locali qual è l'esito che hanno avuto i processi di giustizia riparativa dove sono nati quindi negli Stati Uniti d'America o comunque in generale nei paesi di common law l'esito è una percentuale abbastanza elevata poi col tempo perché all'inizio fu un esperimento poi si è dovuto arrivare a questo attraverso una lunga prassi dove sono intervenuti quindi i giuristi sono stati messi un po' in secondo piano sono stati più i sociologi i criminologi che hanno voluto fortemente questo tipo di procedura chiamiamola così parallela alternativa rispetto a quella classica del sentencing qui assistiamo alla procedura del payroll che da noi potrebbe essere avvicinata alla liberazione condizionale alla quale noi siamo tradizionalmente abituati cioè quando la vittima perdona il soggetto autore del reato e consentendogli di riacquistare la libertà in una misura anticipata rispetto a quella a quella che era stata prevista nella sentenza da parte del giudice nel verdetto da parte della giuria il problema da noi è legato al fatto che le sentenze sono irrefragabili sono intoccabili la cosiddetta intangibilità del giudicato e con la riforma cartabile del 2021 sono stati introdotti anche in ordinamento penitenziario senza però ben definirne il concetto perché è tutto lasciato adesso ad una innanzitutto a un rafforzamento delle strutture che al momento non ci sono per cui molti processi per i quali adesso si chiede di essere ammessi a progetti e programmi di giustizia riparativa vengono sospesi vengono quindi rinviati a data da destinarsi in occasione che ciò avvenga da parte del legislatore e dei giudici ci entreremo nel merito di come questo concetto di giustizia riparativa cerca oggi di entrare nel nostro ordinamento giuridico in Italia e le chiedo in che modo la giustizia riparativa in qualche modo emigra dagli Stati Uniti d'America al nostro continente all'Europa quali sono i primi stati in Europa che hanno recepito questo concetto che in qualche modo hanno quindi cercato di dare centralità alla vittima del reato che deve perdonare in qualche modo chi quel reato lo ha commesso diciamo il Belgio è stato all'inizio uno tra i promotori di questo tipo di iniziative socio-criminali ovviamente la giustizia minorile aveva già da tempo sperimentato sia in Italia che all'estero la forma della non procedibilità del fatto del perdono giudiziale che era già previsto sostanzialmente dal codice Rocco quindi si tratta prima con l'emanazione della legge in materia di giudice di pace nella sospensione del processo commesso alla prova e quindi tutto un sistema subsistema che si era creato per i reati minori e soprattutto in anticipo per i minori cioè soggetti che hanno una forte potenzialità educativa e riabilitativa sotto il profilo appunto del reinserimento nel contesto nel contesto sociale per quanto riguarda invece adesso le prospettive nuove noi abbiamo già una direttiva del 2012 dell'Unione Europea che imponeva sostanzialmente agli stati membri di adeguarsi o di provvedere degli adeguamenti della delle legislazioni nazionali ad un fenomeno che possiamo definire più che di perdono di avvicinamento tra vittima e reo in una pletora di reati che possiamo definire generalizzato il perdono è più che altro una questione formale il soggetto può perdonare ma ad esempio il soggetto passivo può non essere risocializzato quindi può non essersi pentito il problema è il pentimento è un'altra variabile nelle legislazioni europee ma ti le chiedo a volte quando si fanno dei confronti con gli ordinamenti di Comunologo con gli Stati Uniti d'America si parla magari per esempio del sistema presidenziale si dice facciamo il sistema presidenziale anche in Italia facciamo in altri Stati salvo poi accorgersi che alcuni istituti non sono in qualche modo proprio sovrapponibili dall'America all'Italia quanto ci crede in un istituto come quello della giustizia riparativa all'interno dell'ordinamento italiano per come è concepito l'ordinamento italiano poi vedremo comunque cosa prevede la riforma nell'ordinamento italiano il trapianto sì che sempliciter non è proponibile sotto molteplici aspetti sia perché manca una formazione culturale degli organi chiamati a giudicare ma anche una formazione culturale della popolazione per cui la giustizia penale è sempre stata vista e viene ancora vista come una sorta di vendetta pubblica di un'offesa arrecata a un privato ad una pletora di soggetti più o meno ampi per cui il concetto di perdono in genere è molto difficile che avvenga a ridosso del reato ci ha provato il legislatore con alcune riforme abbastanza significative a partire dal 2014 sempre sulla scia anche di questa direttiva dell'Unione Europea ad esempio con la sospensione del procedimento messa alla prova dall'articolo 162 ter del codice penale questo sistema è quell'istituto per cui di fatto l'imputato viene ammesso appunto alla prova con un percorso con un trattamento disciplinato insieme all'ufficio per l'esecuzione esterna delle misure penali quindi in qualche modo si cerca di riallineare l'imputato all'interno del contesto della società in modo che si possa appunto raggiungere la cosiddetta funzionaria educativa della pena prevista dalla nostra Costituzione il perseguimento sarebbe quello in realtà poi di fatto rappresenta una forma di deflazione del dibattimento una forma deflattiva anche del carico giudiziario quindi i giudici tendono a spogliarsi del processo per ragioni di carattere sistemico se vogliamo anche di carattere opportunistico soprattutto processi che si concluderebbero con delle pene piuttosto passi per i reati classici naturali pensiamo all'omicidio pensiamo appunto alla rapina come abbiamo visto prima o alla violenza sessuale questi sono reati i quali conviene spendere qualche altra parola ecco questo tipo di forma alternativa non è non è proponibile no anche perché il re non sarà mai perdonato dalla vittima e vediamo vediamo proprio come l'Italia cerca di introdurre questo concetto nel nostro ordinamento ci fermiamo solo qualche secondo per la pubblicità e poi torniamo ancora qui eccoci qui ancora qui con il nostro ospite di questa puntata del Coraggio di ogni giorno professor Gianluca Ruggero professore di diritto penale presso l'Università del Piemonte Orientale professore stiamo parlando del tema della giustizia riparativa ho un'altra immagine da mostrarle che ho trovato banalmente in rete chiedo alla regia di mandarla ecco si immagina la giustizia riparativa in qualche modo come un'unione delle due persone le due facce della stessa medaglia del reato la vittima del reato è chi ha commesso quel reato con una figura centrale che è quella che cerca di inserire il nostro ordinamento sul tema della giustizia riparativa che è quella del mediatore questa figura che è la riforma cartabbia del 2022 cerca di introdurre all'interno del nostro ordinamento giuridico quindi allora in che modo il sistema italiano cerca di far di trasportare di far di far entrare nel nostro ordinamento quelli che sono probabilmente temi anche molto lontani da noi come mentalità culturale certo la figura del mediatore prende l'avvio diciamo già da un esperimento fatto in altri ambiti del diritto siamo al diritto civile e adesso è stato esteso anche all'ambito delle imprese nel diritto penale la figura del mediatore che è tutta da costruire perché dobbiamo innanzitutto predisporre delle forme di formazione dei corsi di formazione per soggetti che poi saranno iscritti spero in un albo apposito e si occuperanno appunto di predisporre un programma di mediazione un programma di mediazione che ha degli obblighi dovrebbe avere degli obblighi nei confronti del reo perché deve rieducarsi quindi questa rieducazione che noi possiamo definire anche in termini più ampi di risocializzazione cioè adesione del soggetto ai valori che in certo qual modo il reato che gli ha commesso è andato a negare pensiamo alla libertà individuale pensiamo all'integrità fisica anche all'integrità patrimoniale eccetera più difficile riguarda ad esempio i casi in cui i reati siano al soggetto passivo indeterminato cioè quei reati che possono rivolgersi ad un numero indeterminabile di soggetti reati di comune pericolo reati contro l'economia pubblica reati contro l'incolumità pubblica reati contro l'ordine pubblico in questo caso non esiste un vero e proprio soggetto passivo soggetto passivo è lo stato quanto persona quindi la figura mediatoria ad esempio nei reati di associazione di stampo mafioso quello può diventare un problema i soggetti che crescono in un ambiente mafioso molto difficilmente sono riadattabili al comune al comune vivere perché sono diciamo ormai presi da dei sistemi di valori che sono molto distanti da quelli che noi condividiamo restiamo proprio sul tema della mafia di chi in qualche modo fa parte delle associazioni di tipo mafioso un tema di cui ci occupiamo spesso in questa trasmissione si parla spesso di quelli che sono i pentiti i collaboratori di giustizia secondo lei in qualche modo la giustizia riparativa può in qualche modo favorire aiutare il pentimento del mafioso in qualche modo magari un riavvicinamento magari al contesto della società sana e perché no magari chiedere veramente perdono per un reato alla vittima all'offeso certamente noi conosciamo già da tempo quei sistemi cosiddetti di giustizia premiale nei confronti di coloro che si dissociano dall'associazione che può essere anche quella di stampo terroristico la legge non differenzia se non in apposite leggi settoriali ma il concetto è lo stesso cioè il fatto di non voler più far parte di questo dalizio criminoso e quindi abbracciare se vogliamo la cultura della legalità attraverso però un'opera di collaborazione in sostanza questa giustizia premiale che nel tempo poi è stata anche criticata dagli ambienti specialistici proprio per essere diventata un po' troppo rassista sotto questo aspetto quindi più che altro invogliando il collaboratore a collaborare per ragioni meramente opportunistiche in altri casi invece i soggetti hanno voluto proprio cambiare vita e lo Stato deve offrire a questi soggetti un'opportunità di potersi reinserire nella società si tratterà ovviamente di un processo molto complesso i soggetti dovranno cambiare identità cambiare posto luogo nel quale hanno vissuto quindi uscire anche dall'idea dell'associazionismo perché chi vive in un certo tipo di ambiente associazionistico poi molto difficilmente potrà convivere come singolo cittadino in una realtà comune di tutti i giorni però questo è un passo molto importante verso la giustizia appunto riabilitativa riparativa e risocializzatrice perché io quando chiedo perdono per essere stato comunque partecipe di un'associazione che in ogni caso come possiamo immaginare mina alle basi la stabilità dello Stato siano essi terroristi che mafiosi è un traguardo molto importante che dovrà impegnarci per i prossimi anni a venire e muovendo da questa sua osservazione possiamo aggiungere che in tempi recenti si è parlato anche di giustizia riparativa per gli autori dei crimini di guerra siamo in un ambiente piuttosto recente ce l'abbiamo sotto gli occhi di tutti quindi fatti commessi a danno della popolazione civile stragi repurazioni etniche per i quali non esistono a vera e propria pena soggetto che ha commesso certi tipi di reati difficilmente li commetterà di nuovo ma come facciamo adesso a lavare l'onta della macchia cagionata dal reato in questi termini ultimamente nella letteratura straniera ad esempio si è stato proposto all'utilizzo della giustizia riparativa che nell'esperienza ad esempio della ex Yugoslavia hanno preso il nome di giustizia di transizione in qualche modo un perdono di quelli che sono stati i crimini di guerra possiamo dire così alcuni reati molto gravi commessi durante le occupazioni durante le aggressioni ai singoli stati adesso ce l'abbiamo sotto gli occhi di tutti insomma il conflitto ucraino vedrà favore anche per quanto riguarda il conflitto palestinese è un momento molto drammatico per la società dove effettivamente reclamare giustizia è molto complicato reclamare giustizia e chiedere perdono torno sulla riforma cartabia oggi la giustizia riparativa è in qualche modo anche una garanzia per l'indagato e poi per quello che diventa l'imputato nel processo penale e in qualche modo oggi c'è un obbligo già di informazione per l'indagato per l'imputato di essere appunto già informato del fatto che può in qualsiasi momento durante lo svolgimento del processo chiedere di essere ammesso appunto a un programma di giustizia riparativa ruolo centrale di questo programma saranno proprio i centri per la giustizia riparativa di che cosa si tratta esattamente perché è tutto un divenire è tutto un divenire è stato modificato il codice di procedura penale introducendo l'articolo 129 bis dello stesso nel quale è fatto obbligo al giudice e ai difensori di informare l'imputato della possibilità di accedere a un programma di giustizia riparativa certamente ciò non toglie che si addivenga ad una sentenza di condanno perché la giustizia riparativa riguarda se il momento antecedente per determinati tipi di reati ad esempio quando il giudice può concedere come abbiamo visto prima la sospensione del procedimento commessa alla prova o addirittura fuori della causa di non punibilità dell'articolo 131 bis per irrilevanza penale del fatto ma poi abbiamo anche il momento esecutivo momento esecutivo che è rappresentato dall'esecuzione della pena dove il soggetto può chiedere durante l'esecuzione della pena di essere ammesso a programmi di giustizia riparativa che vanno oltre quelli che sono i programmi attualmente previsti ad esempio per la liberazione anticipata per la liberazione condizionale piuttosto che l'affidamento in prova ai servizi sociali questo però deve essere messo come si dice in gergo a rodaggio e dobbiamo ben aver presenti quali sono i limiti stessi intrinsechi a seconda delle tipologie del reato pensi ai reati ostativi dell'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario o ai soggetti sottoposti al regime del 41 bis per i reati appunto di tipo mafioso dove appunto ci sono delle preclusioni per accedere ai vari benefici premiali questo è un rapporto che non è solo bilaterale ma in qualche modo è trilaterale non riguarda solo la vittima del reato e l'offeso ma proprio in virtù di quel principio della nostra costituzione del 27,3 la finalità rieducativa della pena la giustizia riparativa pone al centro anche la collettività la società in che modo immagina che appunto la collettività la società possa poi effettivamente prendere parte a questi programmi di giustizia riparativa quando lo ricordiamo banalmente parlando concretamente si tratta di far incontrare di mettere materialmente ecco magari di fronte allo stesso tavolo davanti al mediatore chi ha commesso il reato e chi di quel reato è stato vittimo certamente non è ancora ben chiaro e tra l'altro è possibile perché la legge non pone limiti al riguardo che lo stesso soggetto offeso si opponga all'incontro perché non vuole perdonare l'autore del reato il reo qui si pone un problema poi di ufficialità perché l'azione penale italiana comunque è sempre pubblica ed è sempre obbligatoria e quindi può darsi che il soggetto voglia avvicinarsi alla vittima e la vittima però non voglia avvicinarsi alla persona offesa e viceversa il soggetto potrebbe anche non pentirsi perché dice come strategia processuale non mi conviene ne seguo un'altra e questo perché rimane tutto ancora un'azione penale statale la nostra come quella di tutti i paesi europei quindi ecco il salto ulteriore ma non penso sia fattibile è quello di una giustizia contrattualizzata dove appunto poniamo sullo stesso piano vittime e re o come parti processuali poi il processo penale europeo non esiste e né forse sarà concepibile per i prossimi anni il fatto che il giudice si spogli dell'affare penale e lo affidi alla gestione contrattata da parte dei soggetti infatti lo ricordiamo per terminare anche la giusta riparativa non è un sistema in qualche modo alternativo al processo penale ma si affianca a questo sistema penale allora vorremmo ricordare qualora ecco appunto il programma di giustizia riparativa abbia un esito positivo poi effettivamente che cosa succede nel processo penale se il processo si sta svolgendo che cosa succede nel momento in cui c'è già una senza di condanna durante l'esecuzione della pena se abbiamo il codice prevede adesso una circostanza attenuante specifica giunta all'articolo 62 del codice penale prevede la possibilità di riferire dell'estinzione del reato in alcuni casi o dell'estinzione della pena in altri casi come cause ulteriori che favoriscono sostanzialmente l'interruzione del regime penale noi abbiamo ancora però un sistema penale carcerocentrico per cui dovrebbe aiutarci questo sistema di giustizia riparativa ad andare oltre il carcere e aggiungendo ancora la nostra costituzione prevede come tendenziale obbligo dello stato di favorire la rieducazione del reo lo dice l'articolo 27 tuttavia dalla stessa costituzione emerge ancora un significato retributivo della pena per cui il giudice dovrà accertare l'esistenza del fatto e condannare se del caso il soggetto e poi aspettare che nei regimi esecuzioni esecutivi della pena questa possa non applicarsi o applicarsi in minima parte dichiarando poi l'estinzione della pena stessa grazie grazie professore per essere stato con noi il professor Gianluca Ruggero professore di diritto penale presso l'università del Piemonte orientale ancora grazie per averci dato il nostro invito e il coraggio di ogni giorno torna a farvi compagnia la prossima settimana buona serata a tutti voi grazie grazie a tutti